Sono vicino a Martis, nell'entroterra sardo non molto lontano da Sassari come vedete è giornata agghiacciante, sta piumendo sabbia stamattina, sono sporco come è e ho visto questo cartello foresta pietrificata, andiamo a dare un'occhiata figo e vabbè un po' abbandonata come cosa non molto ben segnalata ma sono di pietra davvero non so se riuscite a sentire, è pazzesco, fa tipo 20 milioni di anni sta roba c'è semplicemente cemento pietra, vabbè poi ce ne sono altri insomma c'è l'erba alta, c'è un portello, bello c'è un portello 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 dei cavalli molto piccoli, non dei boni ma qualcosa del genere e ovviamente facendo un detour di quelli fotonici nel senso che farò penso 200 chilometri prima di arrivarci anche se stavo a una cinquantina qualcosa del genere in cerca di belle strade, bei paesaggi, belle curve oggi non sterrati perché questo genere fa troppo caldo quindi sto in tenuta civile con pantanocini corti, scarpette normali senza protezioni quindi oggi si fa i bravi allora che dice qui il navigatore abbiamo già sbagliato? no ieri sera prima serata in campeggio c'erano i primi casini avevo pianificato tutto per benino volevo una ricca matriciana dopo una giornata feroce nove ore sotto un sole assurdo penso soltanto quando ho avuto la geniale idea di andare ad agosto nel deserto della giordania quando sono passata peggio mi scottava l'aria addosso sulla pelle quindi sono arrivato dopo nove ore di moto devastato e sognavo soltanto di montare la tenda e cominciare a cucinare qualcosa di buono mi metto lì bello bello cominciare a montare il fornellino a gas e vedo subito c'era qualcosa che non andava insomma faccio breve le bombole che avevo comprato non vanno bene con l'attacco del fornellino quindi brevissimo un momento di respirazione e di panico poi piano B ho tirato fuori il mio meraviglioso barbecue pieghevole raccolto un po' di roba insomma è uscita una ricca matriciana devo dire veramente buona tra l'altro adesso non so se era l'aroma delle pigne che ti ha dato qualcosa in più se non c'era più carino comunque veramente gran bella serata l'unico inconveniente è che ho fatto un casino con padello a pentola sono diventati neri non li ripulirò mai più adesso mi sporcheranno pure la borsa dei vicini di campeggio penso va bene bello così ahi che corvette ok ragazzi Sardegna ha delle strade favolose asfalto ma questo non neanche gran crema molto spesso asfalto appena rifatto come una tavola da biliardo fantastico io vado pure piano di solito però insomma ogni tanto mi viene proprio voglia di darci un attimo giù in piega è un attimo giù in pieghe Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Decisamente una stalla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi no, questi sono originali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.